ciao ragazzi nuovo video della tutto tech ma su che cosa parliamo ancora di un ulteriore accessorio per il nostro sistema di allarme omaio questa volta la omaio ha deciso di inviarci questo un sensore porta finestra magnetico e vibrazioni quindi praticamente non solo quando si discostano i due magneti vi arriverà l'allarme suonerà la sirena esatto ma per di più certo quello è il classico ma per di più questo vi dà la possibilità di stanno trapanando c'è una vibrazione strana viene avvertita e invia lo stesso un segnale una cosa interessante che si distingue dalla massa dei sensori dei sensori classici ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale è importantissimo ci state sostenendo siamo molto contenti stiamo crescendo bene lasciate un bel mi piace e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video in uscita e detto tutto ciò guardatevi la sigla aprite il prodotto ed andate a togliere la linguetta che serve per abilitare il contatto della pila con il dispositivo si accenderà il led rosso e a questo punto richiediamo il prodotto e andiamo ad effettuare l'installazione sulla app entriamo all'interno dell'app di omaio andiamo a cliccare sul nostro omni allarma sempre accessori in basso e facciamo il tasto aggiungi in basso a destra premiamo la x ed ora tornando indietro vediamo che c'è già preso in considerazione e inserito all'interno di omni alarm il rilevatore magnetico e di vibrazioni andiamo ad installarlo e poi lo proviamo ok installazione effettuata facciamo la prova dopo aver installato il sensore vi volevo far notare che nell'app omaio ogni accessorio può essere disabilitato vi dice lo stato vi dice tutto quello che c'è da sapere poi dopo andrà anche rinominato io ho attivato il sensore quindi a questo punto non ci resta che aprire la porta e poi sentire l'antifurto che scappa ho allarmato la sirena antifurto e adesso arriva il pop up che ci avverte e dopo il pop up e la musichetta carina che rilassa l'indesiderato parte il rumore vi ricordiamo che tutte tutto ciò che succede coi sensori con l'allarme col vostro antifurto in casa vi verrà sempre segnalato un'altra prova ci manca e quella delle vibrazioni se io è arrivato il pop up che ci avverte che c'è qualcosa che non va anche con la vibrazione ci ha avvertito immediatamente col pop up la musichetta dell'antifurto quindi qualsiasi cosa succeda sarete avvertiti direttamente qui sul vostro cellulare come avete visto anche in questo caso omaio non ci delude nel senso che l'installazione è stata molto veloce non ci sono stati problemi di sorta è stato riconosciuto semplicemente il sensore e anche l'attivazione è funzionale e valida seguiteci perché nel prossimi video già nel prossimo addirittura vi faremo vedere un po tutto l'insieme del kit allarme più tutti i dispositivi che ci sono stati inviati successivamente gli accessori certo e magari proveremo a vedere un attimo cosa succede se provano ad entrare in casa di mici appunto dopo aver installato tutti questi dispositivi di sicurezza facciamo una simulazione esatto e comunque non ci siamo dimenticati perché vogliamo approfondire anche la app della omaio perché comunque abbiamo scoperto che ci sono parecchie funzionalità che sono degne di nota quindi continuate a seguirci ragazzi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao